Il dimagrimento di Can Yaman stupisce i follower. Ecco le foto dopo aver perso 10 chili. Sono quasi tre anni che Can Yaman si prepara per Sandokan, l'attesa serie tv dedicata al ciclo di romanzi di Emilio Salgari. L'attore turco aveva iniziato a diffondere i primi video dei suoi allenamenti, dove lo vedevamo alle prese con corde e spade, a febbraio del 2021. In seguito ha pubblicato molti altri contenuti, come sempre tutti realizzati a petto nudo, raccogliendo i pareri entusiasti dei suoi oltre 10 milioni di follower. Quest'ultimo post invece li ha letteralmente spiazzati. L'attore ha spiegato che il personaggio non solo richiedeva una preparazione atletica piuttosto impegnativa, ma anche cambiamenti sostanziali nel suo fisico. In queste foto lo vediamo dimagrito di quasi 10 chili. Ecco le sue parole. È stato un periodo molto duro. In un mese sono riuscito a perdere quasi 10 chili, scendendo da 94.5 a 85 chili. È stata ed è una fase particolarmente intensa. Ho tolto molti piaceri della vita. Devo allenarmi due o tre volte al giorno e fare il digiuno intermittente, 16.8, mantenendo le calorie bassissime. Khan Yaman ha tranquillizzato tutti, dicendo che è seguito da professionisti e oggi può dirsi sano, ringiovanito, disintossicato, ma soprattutto è molto soddisfatto di come sta affrontando questa nuova sfida da attore.